La BCE lascia il costo del denaro al minimo storico. Il Consiglio ha infatti deciso di confermare il tasso di riferimento allo 0,25%. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale allo 0,75%. Quello sui depositi resta allo 0%. L'ultima variazione risale al 7 novembre scorso. Tassi più bassi a lungo, promette il presidente della Banca Centrale Draghi, che sulla ripresa ricorda restano ancora rischi a ribasso per la crescita nell'area euro. Del resto la disoccupazione nell'eurozona resta elevata e i necessari aggiustamenti di bilancio continueranno a pesare sull'attività economica.